Carissimi amici eccomi qui con una bellissima pietra. È un minerale splendido, si chiama lapislazzoli e ora vado dal grezzo al burattato e al più nobile in quanto diciamo apparezza. Allora questo è un grezzo di lapislazzoli, ok? Spero si veda bene. Il colore è abbastanza intenso, poi abbiamo delle calciti eccetera, ok? Poi abbiamo un burattato qui, vedete? E qua si possono notare troppi, ci sono troppi, ecco forse così, perché ci sono troppi riflessi sulla pietra. Comunque potete notare che ci sono dei punteggiamenti. Ecco questi punteggiamenti che voi vedete sono la pirite, chiamata l'oro dei poveri, anticamente, perché sembra oro in realtà, ma è bella pesante perché possiede anche tanto ferro, quindi è molto ferrosa. Va bene. Poi un altro tipo, può venire fatta una collana, quindi questo è un po' più carico come colore. E poi vi mostro un pezzo di pirite, un'ogiva, vedete? Che è molto scura, quindi è un buon lapis proprio per l'oreficeria. Ecco. Va bene. Detto questo, ce n'è un altro, se volete vedere. È un ovale. Eccolo qua, bello scuro, anche questo. Questi riflessi, va beh, ok, avete capito. È un colore abbastanza scuro. Va bene. Il lapis ha la durezza sulla scala di Moss di 5,5. È una roccia blu e è costituita da vari minerali. La lazurite, la sodalite, la hyuna, la calcite e la pirite. La varietà migliore deve avere un colore blu intenso, come vi ho fatto vedere, con rare striature o punteggiature di calcite bianca e di pirite giallo-dorata. I principali giacimenti di lapislazuli si trovano principalmente nel nord dell'Afghanistan e poi se ne trova di buono anche in Argentina. E poi ci sono delle qualità meno scure, quindi più chiare, nel Cile, Canada, Stati Uniti, Angola e Russia. Però la qualità ovviamente è inferiore per quanto riguarda l'oreficeria. Per quanto invece riguarda la cura con le pietre va bene uguale, cioè sia che sia oscuro sia che sia invece chiaro va sempre bene. Non c'è una differenza. Purtroppo per quanto riguarda l'oreficeria la differenza è solo estetica, insomma, perché è molto più bello scuro eccetera eccetera. Il nome lapislazuli deriva dal latino lapis, cioè pietra, e lasword che in persiano vuol dire zaffiro. Ok? E non so se l'ho pronunciato bene, però è così. Appartiene al gruppo della sodalite ed è proprio la presenza della pirite a donargli i riflessi dorati. Il nome di lapislazuli è cambiato molto nel corso dei secoli. Plinio in epoca romana diede il nome di zaffiro a questo materiale blu costellato d'oro. E come ho detto ciò che sembra oro è quello invece che viene chiamato l'oro dei poveri, cioè lapirite. Più tardi invece il lapis avrebbe preso nomi di ultramarinum, quindi lo chiamavano anche ultramarinum e lazarium. L'archeologia moderna dimostra chiaramente che il commercio del lapislazuli era molto sviluppato e diffuso fin dall'antichità. E il monopolio di questo commercio fu oggetto di continue guerre tra le città-stato della Mesopotamia e vari paesi attigui. Ciò dimostra proprio l'importanza di questa pietra nella vita quotidiana, dell'epoca del suo impatto sul prestigio, la raffinatezza e la ricchezza proprio di queste civiltà che lo utilizzavano, tendenzialmente Mesopotamia, Egitto eccetera. Un'antica leggenda orientale racconta l'origine del lapislazuli, cioè quando Dio creò la terra, l'acqua e il cielo guardò tutti questi beni che aveva, quindi terra, acqua, cielo, li guardò e si sentì infelice, perché la terra sembrava troppo buia e copa, ma l'acqua blu e il cielo blu deliziavano i suoi occhi. Allora quindi prese un po' di questo meraviglioso blu e lo spruzzò a terra. L'azzurro del cielo si indurì, trasformandosi in una pietra di lapislazuli. Questa è un'antica leggenda orientale. I sacerdoti egiziani spesso tingevano i loro abiti con la polvere di lapislazuli e per dare idea di status, quindi questo colore consolidava il loro status di dei o semi dei, quindi erano quasi come una divinità. Inoltre da questa pietra venivano intagliati degli amuleti che i sacerdoti portavano intorno al collo. Gli egizi foderavano i sarcofagi di lapis, soprattutto nella parte alta del cofano, in modo tale da permettere al morto di trovare la via giusta verso l'altro mondo, perché appunto il lapis sembrava un cielo punteggiato di stelle e quindi il morto andava verso le stelle, giustamente veniva guidato nell'aldilà. Questa pietra era così importante che all'interno del libro dei morti in Egitto vi è scritto che quando un lapislazuli ha la forma di un occhio, esso rappresenta un potente amuleto. Ne sono stati rinvenuti moltissimi esemplari anche nella tomba del faraone Tutankhamon e per il suo blu come il cielo e i puntini dorati come le stelle appunto era associata proprio al faraone in quanto essere scelto dalle divinità per regnare sulla terra. Anche nella Bibbia appare il lapislazuli come una delle pietre del pettorale del sommo sacerdote di Gerusalemme e si dice che resso all'omone ricevette da un angelo un anello di lapislazuli che gli permise di controllare un esercito di demoni che usava per costruire il suo teppio. I babilonesi parlavano di un albero addirittura da cui spuntavano, dai cui rami spuntavano lapislazuli, quindi il frutto di questo albero era il lapislazuli. I primi cristiani lo dedicarono alla Vergine Maria perché appunto gli abiti della Madonna venivano proprio dipinti con questi pigmenti pregiati di blu oltre mare che si ottiene proprio dal polvere del lapislazuli. Infatti con il lapislazuli si creava attraverso la macinazione e altri procedimenti il più pregiato blu degli affreschi medievali. Quindi ogni volta che vedrete un affresco ora ricordatevi, un affresco medievale ovviamente, ricordatevi che quel colore lì è dato da polvere di lapis. Ovviamente era un lapis molto intenso per cui diventava totalmente resistente al tempo, in effetti noi li vediamo ancora. Il costo di questa materia, era considerato una materia prima, era paragonabile a quella dell'oro e se si pensa che le uniche miniere all'epoca conosciute erano in Afghanistan. Anche altri utilizzavano il lapis, ad esempio in India il lapis è noto perché ha il potere di rafforzare la vista e anche salvaguardare la salute. Nel buddismo è considerato uno dei sette tesori e simboleggia la coscienza di sé, tant'è vero che va a lavorare moltissimo il lapis sul terzo occhio. In ambito olistico il lapis viene utilizzato per sviluppare autocoscienza e quindi aiuta anche a esprimere i propri sentimenti in maniera consona, aiuta l'onestà e la rettitudine e comunque è importante diciamo come pietra da tenere sul corpo ma a contatto sul corpo. Quindi può essere anello ma meglio ancora un pendente oppure degli orecchini o dei bracciali. Ora vi dico alcune cose interessanti per quanto riguarda le proprietà sia psichiche che fisiche di questa pietra. Ovviamente ci tengo a ricordare che non sono un medico e ciò che dico assolutamente non ha valore di medicina classica sintetica. Io sono solo un operatore olistico e chi viene da me crede in quello che faccio. Non ha niente a che fare con la medicina di sintesi. Importantissimo perché se no mi radiano da tutto. Questo lapis bellissimo che cosa fa? Aiuta a vincere la timidezza e la paura del buio. Quindi se avete queste problematiche sappiate che è una buonissima pietra. Aiuta ad abbassare la febbre, certo. Aiuta nei mali di gola, aiuta anche a ritrovare la concentrazione. Ottimo per gli studenti ad esempio. Se devono studiare possono utilizzare una pietra di lapis a contatto sempre con la pelle quindi può essere un bracciale, può essere un monile magari qui, un pendentino eccetera. Aiuta a trovare pace e serenità e a diventare più consapevoli e intuitivi. Allontana gli incubi, ovviamente calma e tranquillizza perché il blu è un colore extra calmante, non calmante. È il colore che ricorda la mamma e ci riporta un po' all'interno dell'utero materno. È buono a livello fisico contro l'emicrania. Se voi avete un pezzettino di lapis tipo questo, no? Che è un burattato quindi non fa male, potete farvi degli massaggi su alle tempie e quindi cercare di alleviare questo dolore. Come ripeto, favorisce l'impegno mentale. Quindi ripeto, se avete un ragazzo che fa esami, se avete delle figlie che fanno l'università, date loro un monile di questo tipo che venga tenuto comunque a contatto con la pelle. In epoca medievale era importante perché aveva dei poteri, era considerata, avesse poteri preventivi contro paura, dubbio e invidia. In epoca romana invece si credeva possedesse virtù afrodisiache. È una pietra considerata ottima contro la depressione e permette di accettarsi per quello che si è. Penso di avervi dato veramente un buon un buon ammontare di notizie a riguardo. Comunque se potete acquistarne, se ne avete a casa, ricordatevi che è una bellissima pietra e che è tanto interessante. Forse qua si vede meglio su questa. vediamo questa. Eccola qui. Si nota di più il blu eccetera eccetera. Quindi cari amici godetevi la vostra pietra. Utilizzatela. Provate a darmi dei feedback se la utilizzate. Quando avete mal di gola mettetela qui a contatto sul quinto chakra. Tenetela almeno 20 minuti, possibilmente più volte al giorno. arrivederci alla prossima pietra e non tiratene in giro. Arrivederci.